nel corso dei tempi punto f attraverso francesca r a cura di vb e laura nova 6 maggio 2024 se volete potete fare le vostre domande le domande che vorrei fare sono due la prima è questa Mosè era un medium o un profeta o era la stessa cosa nel corso dei tempi il termine medium ha preso un significato più corretto nell'intesa di tramite mezzo ma i profeti altro non erano che mezzi profetizzare essere capaci di vedere l'oltre l'andare oltre il piano di appartenenza è la capacità dei mezzi e quindi dei profeti nei tempi vostri passati i profeti erano soprattutto rivolti a una visione in chiave religiosa perché l'argomento che riguarda la crescita e l'abbattimento dell'io spesso nel corso del divenire del luogo terra è passato attraverso un divenire religioso o coperto dalla religione dal significato della religiosità perché il cercare il qualcosa che portasse alla conoscenza di chi si è doveva essere sempre rivolto attraverso la figura l'immagine di un dio questo perché il concetto di dio di assoluto e di non separazione ma di inclusione totale e di essere di divenire era molto complicato da spiegare lo è tuttora a voi pensate in tempi completamente differenti ovviamente si è cercato di portare attraverso i mezzi del tempo il messaggio di abbattimento dell'io abbattimento dell'io se andate a vedere le tavole della legge cristiana i cosiddetti dieci comandamenti altro non sono che la prima scozzonatura diminuzione, riduzione importante di quello che è l'io grazie a tutti